Come era avvenuto sette giorni prima a Tristino, il cento giovani cacciatori ha pareggiato 3-3 nel debutto casalingo al Parabarsacchi contro il Breganze dell'ex Romeo Danna. È stata un'altra gara in cui la fortuna ha girato le spalle bianconeri in maglia gialla questa sera, che sono passati in svantaggio al 13-40 con la punizione di prima trasformata dall'ex Fortemarmino Imenez. È stato bravo poi Montigè, l'autore di una tripletta, a trovare il pari, anche lui su punizioni. Poi dal santo in contropiede con una leggera deviazione portava nuovamente sul 2-1 Imeneti. Ad un minuto dalla conclusione del primo tempo Rubio spreca un tiro da fermo mandando la pallina alta sulla traversa. Nell'intervallo c'è spazio anche per un'esibizione dei bambini della Lega Hockey. Dopo quattro minuti dal via è ancora Montigè che per il quindicesimo fallo del Breganze segna su punizione il gol del 2-2. Poi addirittura, sempre su punizione, porta i ragazzi di Alessandro Mertolucci meritatamente sul 3-2. I tifosi fanno festa e incitano la squadra che subisce però in contropiede la rete di Imenez con la pallina deviata per il 3-3 finale. Al termine di una gara davvero molto bella e combattuta. Sabato trasferta a Cremona la ricerca dei primi tre punti stagionali.